ragazzi mi è arrivato questo bellissimo regalo, uno dei regali dalla Samontana collezione seletti da Samontana, andiamo qua, e questo è un porta, ops, vabbè, ecco spaccettiamo questo pacco, non sono proprio un esperto, vediamo un po', beh, che dire, ragazzi in alluminio, vai che bella, è calda, un porta barattolino per tenere la freschezza del barattolino Samontana eh, adesso siccome l'ho finita il gelato, oggi così ho la scusa per andare a riprendere, guardate che bella, eh, grazie alla Samontana al prossimo video veramente non lavare i lavastolini, non si può lavare i lavastolini, eh, ragazzi